Gli agenti della Polizia Postale hanno portato a termine la più importante operazione di polizia effettuata negli ultimi anni contro la pedofornografia online. Sono oltre 400 le persone coinvolte in tutto il mondo, 81 italiani. Sono state eseguite perquisizioni e arresti in flagranza in 53 province e 18 regioni italiane. L'operazione Luna Park vede due regioni maggiormente interessate, la Lombardia e la Campania. In questi territori infatti risiede il 35% degli indagati. Le perquisizioni personali locali e sui sistemi informatici richiesti dalla Procura Distrettuale di Milano hanno portato al sequestro di telefonini, tablet, hard disk, pendrive, computer e account di mail e profili social. Durante le perquisizioni sono stati anche rinvenuti gli account utilizzati dagli indagati per la richiesta del materiale pedofornografico, un ingente quantitativo di materiale illecito custodito sui supporti informatici sottoposti a sequestro. Dopo due anni di indagini e condotte sotto copertura sulla rete internet, la Polizia Postale di Milano e del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale di Roma ha identificato 432 utenti che, sfruttando le applicazioni WhatsApp e Telegram, partecipavano a canali e gruppi finalizzati alla condivisione di foto e video. Gli abusi in particolare riguardavano prevalentemente bambine e bambini in tenere età e in alcuni casi anche neonati. Sono stati individuati 159 gruppi, 16 dei quali erano delle vere e proprie associazioni per delinquere. Tra gli indagati figurano persone di estrazione sociale ed età molto eterogenee, quali affermati professionisti, operai, studenti, pensionati, impiegati privati e pubblici con età anagrafiche che oscillano tra i 18 e i 71 anni.